Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi faccio questo veloce vlogghettino in cui vi farò vedere tutte quante le uscite principali dei Asmode Italia. Ci sono diverse novità, come vi farò vedere in uscita nei prossimi mesi, ma abbiamo anche veramente delle chicche, dei titoloni veramente AAA nel giro di qualche mese. Quindi diciamo nel corso dell'estate usciranno tantissimi bei giochi, tra cui uno che io e mia moglie stiamo aspettando. Da morire, ma come vedete poi l'elenco delle uscite andrà avanti fino a fine anno. Ve le faccio vedere un pochino tutte e vi do qualche indicazione su quelli che sono, secondo me, nelle mie corde e nei miei gusti, quelle da tenere veramente sott'occhio e da non lasciarsi scappare assolutamente. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Andando nella sezione prossime uscite, cliccando direttamente qua giù, vediamo che la lista dei titoli, come vedete guardate qua, scorro e siamo soltanto a luglio. Ristampe varie, ovviamente, espansioni di giochi già usciti. E si arriva a fine dicembre, quindi hanno un catalogo che comprende tutto l'anno, ma sia chiaro in costante evoluzione. Ad esempio, nel mese scorso, tanti titoli che ora sto vedendo non c'erano e addirittura anche qui è stata fatta una nuova aggiunta. Comunque, se volete sapere le date di uscita, bene o male, il periodo dei giochi di Asmode Italia, quindi come editore italiano loro, andate sempre a vedere questa pagina sul loro sito, asmode.it, perché a volte i giochi possono subire degli slittamenti. Magari invece di uscire a giugno potrebbe slittare al mese di luglio, agosto, però comunque il catalogo è sempre e costantemente aggiornato. Vediamo, ovviamente, tanti giochi di carte su cui sta puntando Asmode, tra cui, ad esempio, Keyforge, che è il loro nuovo gioco di competizione di carte, ma anche di collezione, quindi una specie comunque di Magic, gioco sia competitivo che da collezione. E poi hanno tantissimi altri titoli che stanno uscendo, ad esempio, Streaking Kittens, per chi conosce il gioco Exploding Kittens, che è un gioco molto divertente di carte da fare velocemente a qualsiasi tavolo, Barking Kittens, ad esempio, per un'altra espansione e poi varie espansioni anche, tra l'altro, una di quelle importanti di un gioco famoso e importante come Ticket to Ride. In questa nuova espansione, Europa, comunque sempre andando a cliccare, vi fa vedere una descrizione veloce del gioco, il numero dei giocatori, il tempo di gioco e l'età consigliata. Abbiamo nel 2021, ora a giugno, sempre che, ripeto, sono date provvisorie che non vadano a slittare, o comunque piccole modifiche, abbiamo Tales of Evil, un gioco che, se vi ricordate, vi ho già portato sul canale, ed è un gioco, secondo me, spettacolare, perché fonde veramente le meccaniche di un gioco esplorativo con un grande contesto cult anni 80, vabbè, 80-2000, nel senso, andiamo a vedere un titolo di partenza come Goonies, una saga, un film bellissimo, come ad esempio anche tante chicche, fumetti, videogiochi, per poi arrivare a Stranger Things. Quindi, comunque, è un fortissimo richiamo ai giochi dell'esplorazione genere sci-fi, in gioco cooperativo, completamente cooperativo, e con una fortissima componente narrativa, in un gioco, ve l'ho detto, dal tema, comunque sci-fi, horror leggero. Poi abbiamo le varie ristampe di giochi gettonatissimi, che hanno venuto da paura, tipo il Signore degli Anelli, Viaggi nella Terra di Mezzo, che anche questo ve l'ho portato sul canale. Abbiamo, ad esempio, Seven Wonders Agora, anche questo è una ristampa, e Munchkin Dungeon, variante del gioco di carte, che, come vi ricordate, anche questo ve l'ho portato sul canale, se volete andare a vedere il video. Abbiamo anche Pandemic, la ristampa di Pandemic sull'orlo dell'abisso, Star Wars Rebellion, gioco che vi consiglio di comprare, se siete fan di Guerre Stellari, ma anche di giochi di battaglia e di conquista, insieme all'espansione. Insieme all'espansione Rogue One, perché veramente espande il contenuto, e ve lo trasforma in un gioco che potete portare avanti, veramente farci delle giocate per mesi, mesi, mesi e mesi. Poi abbiamo quello che a noi ci interessa di più, che è Bloodborne, mi interessa da paura il gioco, non di carte, il gioco di miniature, e questo doveva uscire a giugno, l'hanno slittato a luglio. Ah, è normale, perché comunque ci hanno tantissimi altri progetti, e quindi ve l'ho detto, uno slittamento ci sta. Poi abbiamo Seasons, la ristampa, con le espansioni che stanno per uscire. Marvel United, che non l'ho portato sul canale, ma è un gioco molto interessante, perché abbiamo i personaggi della Marvel in versione Super Deformed, ed è molto carino poi, insomma, per tutti quanti gli amanti dei fumetti Marvel e dei film, secondo me, non deve scappare. Altre espansioni di Pandemic, Zona Rossa, espansione Venom per il gioco di carte Marvel Champions, che anche quello ve l'ho già portato sul canale, e le varie ristampe di gioco base ed espansioni del gioco di carte di Harry Potter. Poi abbiamo un altro titolone da paura, Descent, che uscirà ad agosto 2021, e questa non è un'espansione Leggende delle Tenebre, è proprio un altro gioco stand-alone di Descent, guidato, come nella seconda edizione, da app, ed è uno dei titoli più gettonati, perché sembra veramente, se voi vedete l'app, sembra di giocare a diavolo. Quindi è la fusione perfetta fra il gioco da tavolo, il board game e la componente videoludica. Poi la ristampa di Zombicide Black Plug, per chi gli interessi, veramente un titolo molto interessante, ed è il primo titolo medievale fantasy della serie di Zombicide, Marvel Champions, un'altra espansione legata a Thanos. Poi abbiamo Ankh, gioco dell'Akmon, che anche questo molto interessante, sarà un gioco di battaglie fra divinità egizie, che voglio assolutamente, perché adoro il Pantheon, le credenze dell'antico Egitto, soprattutto dell'antico regno. E andando avanti, nuove espansioni di Sherlock Holmes, consulente investigativo, che questa volta vi mette nei panni degli irregolari di Baker Street, che sono quel gruppo di ragazzini che praticamente lavoravano e svolgevano compiti secondari, ma a volte risolvevano anche piccoli casi. Per Holmes abbiamo l'espansione per Agricola, la terza o quarta ristampa di Gloomhaven, forse il dungeon crawler più completo mai fatto fino a oggi, e scatola che pesa 10 kg, non sto scherzando, quasi 11 a dire la verità, di contenuti. E poi, andando sotto, vedete comunque, i contenuti sono tantissimi, tra l'altro prima espansione stand-alone di Gloomhaven, che questo però non è una ristampa, perché deve ancora uscire. E poi abbiamo due talisman, che mi interessano da paura, uno ambientato in Kingdom Hearts, nella saga, e uno ambientato nella saga di Guerre Stellari. Più altri titoli, come vedete qua sotto, in data di pubblicazione ancora da definire. Ripeto, tutte quante le date che vedete di uscita potrebbero slittare anche di un mese o due, questi qua sotto invece non hanno ancora una data. È normale comunque, avendo un catalogo così grosso o asmode, deve cercare di fare inquadrare tutto quanto e di fare uscire prodotti pronti, che non abbiano errori, non abbiano bisogno di correzioni, di rivisitazioni e cose del genere. Quindi comunque, fatta la revisione, finito il gioco, impacchettate e tutto quanto, è pronto per uscire, però la data di solito è comunque abbastanza indicativa. Ad esempio, Bloodborne, se non è già slittato di due mesi. Comunque, quel che conta è che quando uscirà, il gioco sarà pronto e non ci sarà da trovare refusi, errori e cose del genere. Questo è un po' il catalogo delle uscite fino a fine anno, ma che tranquillamente, andando sul sito di asmode.it, potete vedere tranquillamente. Vi ricordo che tutti i giochi di asmode, tutti dal primo all'ultimo, li potete trovare nel nostro negozio sponsor, primo link in descrizione e in sovraimpressione, gioco libreria semola, al miglior prezzo sul mercato, e se un gioco lo trovate, cioè nel listino, ma è finito, oppure proprio non c'è più in lista, quindi proprio fuori catalogo non c'è, scrivete al supporto, al proprietario, con il rado della gioco libreria semola e fateli presente che arrivate dal canale di Coridan. Giochi finiti o fuori catalogo farà il possibile per trovarveli al miglior prezzo sul mercato e usate sempre il codice discount Coridan7 per avere uno sconto del 7%. Spese postali gratuite se spendete più di 79 euro in 24 ore in tutta Europa, quindi anche fuori dall'Italia. Dateci un'occhiata perché è davvero molto interessante e il catalogo per quest'anno di asmode, direi, per questo 2021, è veramente straricco. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate. Ciao ragazzi, alla prossima!